Un saluto dal Tg della Mobilità. Venerdì 14 gennaio, trasporti pubblici a rischio a Roma a causa di un'agitazione di 4 ore indetta dai sindacati CGL, CISL, UGL e Faisa CISAL. La protesta interesserà le reti Atac e Roma TPL, per cui dalle 8.30 alle 12.30 saranno possibili stop su bus tram metropolitane e ferrovie urbane. A livello regionale l'agitazione interesserà invece i collegamenti extraurbani gestiti dalla società Cotral. Possibili riduzioni di orario anche per le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità.